buongiorno a tutti oggi mi avete scritto in parecchi segnalandomi l'uscita del presidente della regione emilia romagna nuovo candidato alla segreteria nazionale del pd rispetto alla questione numero chiuso a medicina allora numero chiuso a medicina è una questione importante perché intanto dobbiamo chiamarla con il termine corretto che è numero programmato che non è il numero chiuso sono due cose distinte perché il numero chiuso è una volgarizzazione utile per motivi stampa probabilmente ma il numero è programmato e che cosa significa programmato significa che si programma da un lato il fabbisogno ma soprattutto si programma l'accesso in funzione delle persone effettivamente formabili formabili significa che per la formazione di un medico non c'è solo la teoria che pur tutti possono studiare e possono dare ma c'è anche la necessità e non è secondaria di una formazione pratica di tirocini tirocini che sono fatti nelle strutture ospedaliere territoriali e sono fatti al letto del malato piuttosto che nei laboratori piuttosto che queste strutture hanno una capacità finita hanno una capacità limitata mettere senza alcun tipo di filtro ok poi possiamo discutere sul tipo di selezione io condivido la scelta che ha fatto il ministro precedente messa mi sembra di ricordare fosse il nome che ha fatto una modifica della struttura del testo e chiamiamolo test accesso del processo di selezione e quindi quello mi sembra un processo corretto strutturato ma è necessario avere una rispondenza tra il numero di candidati e la capacità effettiva poi di sfornare delle persone che abbiano non solo dimostrato l'acquisizione delle conoscenze teoriche ma anche e soprattutto della capacità di mettere queste conoscenze teoriche al frutto nella parte clinica o laboratoristica o strumentale o dei servizi dipendendo dal settore dove si va a lavorare quello che però è non possibile intollerabile nel 2022 è che si pensi di dire vabbè apriamo tutto a tutti e poi vedremo come vanno le cose poi cercheremo di risolvere non funziona così questo latte è stato versato il latte del numero mal programmato diciamolo così o del numero troppo chiuso non a medicina ma nelle scuole di specializzazione e nella formazione specifica in medicina generale ormai è un dato di fatto lo snami sindacato che in emilia romagna oggi io rappresento già nel 2012 2011 2012 chiedeva perché la dottoressa raggiotto facciamo nomi e cognomi aveva già fatto la previsione dei pensionamenti chiedeva delle modifiche non solo sul numero di laureati in medicina che tutto sommato però poteva essere sensibilmente anche aumentato ma che non avrebbe avuto alcun beneficio su quella situazione in cui ci troviamo oggi che è dovuta non tanto al numero dei laureati in medicina e chirurgia ma è dovuta unicamente all'imbuto formativo post laurea nelle scuole di specializzazione nella formazione specifica in medicina generale noi avevamo chiesto e metto due link sotto questo video giusto per risottolineare questo aspetto noi avevamo chiesto per esempio la formazione specifica in medicina generale part time perché c'erano degli abbandoni enormi la gente comunque doveva lavorare perché già c'era la carenza allora ma si preferiva nascondere la polvere sotto il tappeto fare magari una sanatorietta qua una sanatorietta là ma non modificare un sistema strutturato quando noi avevamo chiesto il tempo parziale in medicina generale che è l'articolo 12 di un decreto ministeriale del 2006 2006 si trovarono le più ardite risposte per dire ah non ce l'hanno mai chiesto ah forse lo vedremo forse lo valuteremo no in realtà non si voleva fare anche perché non si è fatto tutt'oggi nel 2022 la provincia che l'ha attuato è bolzano che ha capito ovviamente che sia sugli aspetti retributivi della borsa di studio sia su altri punti bisognava fare delle modifiche ma c'è stato un problema enorme sulla volontà politica di modificare un sistema di formazione post laura che non sta in piedi non sta in piedi neanche oggi con una scemenza dietro quell'altra fino ad arrivare all'ultima genialata che fu l'apertura di 17 mila posti nelle scuole di specializzazione con strutture che sono esplose piene di questi medici specializzanti certe volte troppi rispetto anche veramente alla capacità formativa perché ovviamente tutti pigiati penso agli anestesisti per le sale operatorie non che le sale erano chiuse perché c'era il covid e questi centinaia di specializzanti inseriti tre per sala operatoria in alcuni punti poi ovviamente adesso la cosa sta migliorando allora bisogna fare le cose con un minimo di rastiocinio il numero deve essere programmato e il tetto di questo numero deve essere la capacità formativa effettivamente bilanciata rispetto alle strutture della rete formativa perché viceversa non si riesce a far fare il tirocino le persone le persone escono che hanno un titolo a cui però non corrisponde poi l'acquisizione di una reale competenza per svolgere le funzioni che gli vengono richieste quindi è un percorso estremamente complesso estremamente da bilanciare con veramente il milligrammo e non si possono fare delle politiche non si possano per come la vedo io ascoltare oggi delle robe tipo dentro tutti fuori tutti eccetera eccetera perché non va bene il bianco o il nero purtroppo bisognava pensarci prima e bisogna che la politica nazionale e delle regioni si assumano la responsabilità delle scelte fatte o omesse che era necessario prendere negli anni scorsi e che non sono state prese perché anche non scegliere è una scelta e questo è il risultato che stiamo vivendo quindi oggi noi non possiamo andare a ipotecare ulteriormente la qualità di quello che verrà tra qualche anno quando magari la carenza sarà in qualche modo tamponata e parzialmente risolta e invece ci saranno altri problemi dovuti al fatto che non si è e non si è voluto e ancora oggi non si è andato a centrare il nocciolo del problema che è quel benedetto o maledetto sistema di formazione post laurea che va adeguato a quello che avviene in tutto il resto d'europa e che ancora si resiste a capire che è necessariamente da riformare grazie